Mamma mia che stanchezza Fuori Una mattina di novembre Dove sta dorme? Sono Dove sta? Buongiorno Eroardo? 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 Oh, hai visto che ho riformo? Gli esami di scuola, invidio L'avevo faccio, io volevo andare anche a casa CANTASIA Oh mio Dio Il mordaglio di CANTASIA No No Io sono la play No, no, no Sto perdendo No, no Ciao tutti ragazzi Ecco, una certa etica riguarda insieme al manciopertoni Un nuovo video insieme Due vlog Il vlog Il mordaglio di youtube E volevamo vedere E volevamo vedere E volevamo anche dire Abbiamo fatto Cioè Per avere molto tempo Per fare montaggi Caricare video Il computer disponibile Avere accessori apposta Programmi apposta E un buon computer Poi ci sono anche persone Che si lamentano Che si lamentano della durata del video Se Ve lo dico adesso Se come io e Edoardo Carichiamo il video E' solo perchè Ehm Dopo ci mette troppo a caricarsi E poi se non è in HD E poi se non è E poi se non è Dopo 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 E poi se non è in HD Ehm Ehm E perchè Volevo avere un computer apposta Con una memoria recente E anche Ehm Il mio Con tutto è molto Molto bello Un computer PC Come cazzo lo volete chiamare E E niente E niente Volevamo avvenire In questo Vlog V-vlog 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 Quarto V-vlog 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 Che 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 Come sono nerd Un nerd sonico Ma abbiamo fatto venire che Quelli che stanno in barista di più a play No 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 Poi quelli che stanno sempre Sul pc come lui fa un piccolo esempio ecco questo è il tipico nerd nerd scavatori come dice il capo oggi volevamo fare questo blog per stare insieme a youtube il video ci si apre da una giornata con youtube ragazzi insomma io sono compatto allora ragazzi questo video era abbastanza bene perché cantate ancora un sigaio un attimo un attimo vedete questo questo è il mio biglietto della corriera e me lo sono dovuto guadagnare ma proprio guadagnare allora effettivamente questo è un video corto perché non sapevo cosa fare a stare un po' con voi aspetta che il campione si ricaricherà così capperò un mio gen se no addio beh ragazzi oggi abbiamo scoperto i tipi di nerd quello al computer è un po' più assacerato perché è stato un nerd quello che si impallessa il gioco si mette anche il piano certe volte io vi dico una cosa restate molto davanti al computer come succede a me ci sono molto purtroppo e io non sbaglio perché ho avuto in parlessi lì io non sanno un nerd e non mi qualifico come nerd perché la maggior parte delle persone una percentata su dieci cioè dieci percentata su dieci credo di essere nerd perché si danno così mentre solo l'una su dieci è un vero nerd e quindi per favore ma fisico proprio per favore qui qui eh non mi è andata a perdere più da quella ok proprio qui sotto qui proprio qui qui sotto qui eh no anzi vai su youtube eh no non c'è internet beh proprio qui sotto facciamo un po' non c'è internet un attimo ehm proprio qui sotto come mi stavo dicendo eh qui qui sotto ehm credete se siete nerd o greffer ehm o se siete qui e niente da Edoardo Mariani Matteo Bertone e tutto ci vediamo al prossimo aspettate aspettate no 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 dai 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 ah ecco vuole parlare allora visto che ero un po' un po' di wow oggi non ho parlato molto non ho parlato molto del nostro canale e dei nostri rapporti sensuali che stanno voglio dirvi come disse un amicchetto chichi aspettate come si chiama mi si chiama ciuffo e quanti anni ha ha solo un anno ehm ehm come fai come faceva fermo fermo perciò perciò stare ciuffo ragazzi era un saluto perchè io in questo video ho partecipato poco perchè sto aspettando cantata e quindi eccolo eccolo e quindi niente quindi da Edoardo Mariani e Matteo Bertone è tutto ci vediamo nel prossimo a